Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini ha fatto un'intervista su un importante giornale e parla del suo rapporto con Berlusconi e dice con Berlusconi ottimo rapporto, il centrodestra è unito. In realtà il centrodestra non esiste, esiste un centrodestra di governo che tutto insieme a Malapena riesce ad arrivare ai numeri che ha Giorgia Meloni da sola con Fratelli d'Italia. Intanto Salvini dice che la settimana prossima chiederemo di mettere ai voti la nostra mozione sul ritorno al nucleare, vedremo cosa ne dicono coloro che non vogliono più il gas russo. Sul ritorno al nucleare io sono assolutamente d'accordo. Sul nuovo nucleare, quello che è molto meno pericoloso di quello di una volta, guardate in Francia hanno 56 centrali nucleari e decidono loro il prezzo dell'elettricità. Salvini in un'intervista parla anche del rinnovato rapporto con Silvio Berlusconi. Ci abbiamo cominciato a vederci, a frequentarci anche fuori dall'ambito di lavoro. La stima è sempre stata grandissima, ma la frequentazione, stadio, pizzeria, giornate libere, ha suscitato anche l'affetto. È una persona fuori dall'ordinario davvero. Io credo che, e ne sono convinto, ma è una mia opinione personale, che Salvini stia volteggiando intorno a Berlusconi, stia volteggiando intorno a Berlusconi perché aspetta il regalo, aspetta che Berlusconi gli dica sì dai fondiamoci, tu fai il segretario, faccio il presidente onorario, sai c'è una certa età, sono stanco, io sono il presidente onorario e tu fai il segretario e decidi tutto tu. Questo sta aspettando Salvini, cosa che Berlusconi gli aveva già detto un mezzo sì, anzi lo aveva proposto Berlusconi, ma lui voleva andare al Quirinale, poi non è riuscito ad andare al Quirinale, così diciamo che quella promessa di regalare Forza Italia alla Lega è un po' andata nel dimenticatoio, ma Salvini continua a girarci intorno. Secondo voi Salvini che va a mangiare la pizza, va allo stadio e va a passare le giornate con Berlusconi è perché è veramente una persona fuori dall'ordinario davvero, come dice Salvini? Sì lo è Berlusconi fuori dall'ordinario, ma tutto questo suscitato affetto secondo me è molto interessato, molto interessato. Spiace che Berlusconi non l'abbia capito, o se l'ha capito magari gli va bene così. Sapete, le persone che hanno un certo potere sono sempre attorniate da persone diciamo interessate a qualcosa, le persone che hanno potere e soldi hanno sempre intorno un certo numero di persone che volteggiano, che volteggiano perché hanno svariate cose che potrebbero tornargli utili. Salvini poi parla anche delle elezioni in Francia, dice hanno fatto vedere che nel centrodestra ci sono tre posizioni diverse. Berlusconi per Macron, Meloni per Zemmour e noi per Le Pen. Ma scusi senatore, chi le ha detto che Meloni è per Zemmour? Meloni ha detto non me ne frega niente, ha detto non me ne frega niente delle elezioni francesi. Senatore non faccia dire alla Meloni quello che non ha mai detto. Cribio per Bacco, basta voi due, cost'invidia verso la Meloni, basta. E poi dice, detto questo, falso, è altrettanto vero che sui quasi mille comuni che andranno al voto in giugno, quelli su cui ancora non c'è l'accordo non arrivano a dieci. Detto questo, io penso che il centrodestra sarà unito ed è nostro dovere lavorare perché ciò avvenga. E ovviamente fratellità deve essere della partita. Deve. C'è accordo sulle amministrative, ma se, scusi senatore, dopo che lei è corso per fare eleggere Mattarella, lei è sparito, non si è fatto più vedere né più vedere né più sentire da Giorgia Meloni. Come fa a esserci accordo sulle amministrative se lei è sparito e non ha più parlato con il capo del centrodestra che è Giorgia Meloni? Anche questa affermazione mi sembra un po' strana, se mi permette il termine, caro senatore. Da Meloni che tifa per Zemmour, falso, c'è accordo per le amministrative, falso. Beh, mentre sulla crisi internazionale quale profondo concetto ci esprimerà il senatore Salvini? Dice io sono seccato da chi accusa di essere ambiguo sui legami con Mosca. Tutti hanno avuto rapporti di lavoro e magari amicizia con un'ampia gamma di leader e paesi. Non sempre solidamente democratici. Io sostengo che bisogna fare tutto il possibile per fermare questo. In Europa qualche segnale positivo c'è. Qualcuno alza i toni. Comunque abbiamo un'altra occasione per mettere alla prova certi partiti, dice lui. La settimana prossima chiederemo di mettere ai voti la nostra mozione sul ritorno al nucleare. Vedremo cosa ne dicono coloro che non vogliono più il gas russo. Allora, caro senatore, tutti hanno avuto rapporti di lavoro e magari amicizie con un'ampia gamma di leader, non sempre solidamente democratici. Certo, ha ragione senatore Salvini. Però quelli che si sono messi le magliette e le foto incorniciate a casa è solo lei. Questa è la differenza. Nessuno le ha mai contestato di aver avuto rapporti con la Russia, con Putin e col suo partito. La gente si è, diciamo, stupita per il comportamento adolescenziale di andare in giro con le magliette di Putin più di una volta e di avere l'immaginetta, la fotografia a casa sulla mensola di Putin. Ecco, insomma, una cosa è avere rapporti come tutti i leader politici con un paese. Una cosa è andare in giro in modo adolescenziale con magliette, fotografie, come fanno i quindicenni che hanno a casa il poster del cantante preferito. Ecco, questa è la differenza, caro senatore, tra lei e gli altri. Ecco. Per quanto riguarda l'amicizia che ha avuto Putin con Berlusconi, a Berlusconi hanno chiesto di telefonargli. Non l'hanno preso in giro perché Berlusconi non andava in giro con le magliette o aveva la foto di Putin sulla scrivania. Sono due cose differenti, sono due cose differenti, caro senatore, però piano piano vedrà che, piano piano realizzerà, metterà a fuoco qual è il vero problema, no? Senza girarci troppo intorno. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.